Mi aspetto non tanto una risposta definitiva, ma quanto la possibilità di essere orientato nella scelta dello stage. Perché una mia amica me ne ha parlato, ha detto che si tratta molto bene e quindi ho pensato potesse essere utile anche per me. Per trovare un settore o un tipo di azienda che potesse essere più idoneo alle mie aspettative e alle mie competenze. Perché essenzialmente volevo avere un punto di vista completamente esterno, che non sia né la famiglia o né gli amici o me stessa. Perché spero di chiarire un po' di più le mie idee su cosa dovrò fare da grande. Cercare di farmi capire quali sono le mie doti, quali sono magari i miei punti deboli e cercare di sfruttarli al meglio. Perché spero di avere qualche consiglio e di riuscire a capire quali siano meglio le mie attitudini e quello che mi piace per poter mandare delle candidature più mirate ai miei possibilitatori di lavoro. Io sono solo curioso per P.O.L. e voglio vedere se mi può aiutare a chiedere il mio summer internship e i miei futuri carriere. Io spero di aver capito di riuscire a capire le mie attitudini e che tipo di lavoro o intersipi sia il mio giusto. Perché vorrei scoprire i patti non conosciuti su me. Perché questo sarà un'opportunità per me di scoprire le mie stagioni e le aziende migliori a me. Sinceramente oltre le aspettative. Davvero un'esperienza notevole. Credo di aver non imparato qualcosa di nuovo, ma di riuscire ad essermi inquadrato. Ho una visione un pochino più chiara di me stesso. Sicuramente la disponibilità e la chiarezza degli intervistatori. Sono stati davvero molto pazienti con me perché li ho riempiti domande e sono stati davvero chiari e concreti nel dare delle risposte, cosa non da poco direi. Sì, è stata un'esperienza molto utile e me ne avevano parlato molto bene e in effetti si è rivelata tale. Hanno usato un modello sulle attitudini per spiegare e per spiegarmi soprattutto e farmi capire quali fossero i miei punti di forza. Sono stata positivamente sorpresa perché sono state delle domande che magari le sappiamo già, però magari non ci podiamo mai veramente queste domande e mi ha fatto bene pensarci e parlarne. È stato un colloquio interessante, sono venute fuori delle cose anche particolari cui non avevo mai pensato prima, quindi è stato sicuramente molto utile. Hanno applicato un modello per capire i comportamenti e le attitudini che non avevo mai studiato prima e mi ha interessato. È stato simile come l'aspettavo con qualche sfaccettatura un po' diverso, ossia io mi aspettavo forse qualcosina in più dal punto di vista dei consigli sull'assessment che abbiamo svolto questa mattina. In realtà è stato molto più incentrato su un profilo psicologico, attitudinale della persona, però d'altronde era ben chiaro, era stato spiegato bene, era stato un mio errore interpretarlo diversamente. Mi ha colpito l'approccio adottato, era un approccio molto tecnico, quasi scientifico e ben suddiviso, ben classificato, che spiega le mie caratteristiche e le mie attitudini. È stato molto interessante. Sì, credo che è stato sicuramente quello che ho aspettato, che mi ha aiutato nella mia scuola internazionale e la prossima carriera. La cosa che mi ha impressionato, è la forma che internazionale mi ha approcciato durante questo processo. E' stato davvero coinvolto e ho cercato di capire a sapere 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 a sapere, che mi ha avuto una decisione di capire a sapere 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 a sapere. Io ho dato ad esempio dove mi ha concentrato, anche se io conosco le mie aptitudini, è ancora bello di avere un punto di vista esternale di approcciare le aptitudini, e è molto bello di ricevere il feedback da persone professionelle. Fortemente consigliato. Sì, decisamente. Definitivamente sì. Sì, è sicuramente un'esperienza interessante. Definitivamente. Mi consiglio questa POL adottura a tutti di aumentare la sua sicurità loro. Sfruttatele!